visite guidate a degustazioni wine tour è nato enjoy chianti il portale web dove è possibile acquistare con un semplice click un'emozione da vivere nel chianti classico partendo da greve realizzando qualcosa che a greve non c'era e cercando di coinvolgere tutto il territorio di promuovere il territorio con aziende locali strutture ricettive da una parte dall'altra servizi un team di professionisti che offre servizi turistici completi nel territorio toscano nella nuova sede di greve in chianti è possibile creare anche pacchetti viaggio personalizzati per tutte le esigenze con enjoy chianti settimanalmente partono tour regolari per queste destinazioni che sono san gimignano siena pisa e lucca e anche un tour sullo shopping una nuova realtà per greve in chianti cittadina a forte vocazione turistica già pronta a raccogliere le nuove sfide del turismo di oggi e avere anche delle attività che possono dare risposte come può essere enjoy chianti sicuramente è un'opportunità per chi arriva qui ma è un'opportunità anche per tutto il nostro territorio Grazie a tutti Grazie a tutti